ah eccoci qua un altro video vi ricordate che nel video precedente vi avevo detto per quelli che mi stanno dicendo è perché non porti più le patch serie c su PES 21 il video è arrivato ma prima di partire questo video volevo dirvi del mio sponsor il mio sponsor è BANZ è un sito web dove vende prodotti di vestiti capelli e altri prodotti disponibili link di iscrizione col link avrebbe il 10% di sconto vedere è gratis poi se devi comprare hai lo sconto passa link di iscrizione eccoci qua siamo arrivati allora dopo questo bellissimo sponsor il mio caro BANZ ovviamente adesso vi spiego il motivo perché allora il motivo ve l'ho già detto ho fatto ho fatto il campionato semanese il campionato semanese occupa 16 squadre se voi andate su PES lega PES vedete che la vostra lega PES ci sono ben 20 squadre quindi quattro sono ancora da creare da zero quindi ho detto visto che tutti avranno avranno le quattro squadre che io non ho modificato su lega PES poi mi dite le quattro squadre che voi volete che io faccio io per voi e io le faccio ma ma le farò ovviamente le più votate le più richieste e le più messe mi piaci quindi esempio Paco Palina scrive che vuole il Bari il Palermo il Palermo il Palermo e il Novara tanti scrivono sempre la stessa c'è sempre facciamo un esempio l'altro scrive Giovanni scrive voglio il profecelli il Novara il Palermo e il Parma ok il Bari vedo quelle la gli altri sono più votate quelli sono state votate cioè scritte di più tu Novara Palermo e Bari bene metto quelle le prime poi vedo chi è ancora la quarta però facciamo che lo carico il video dopo domani e dopo una settimana settimana che faccio passare perché so che youtube che mi vuole bene ci mette un po' a far vedere dei video a quelli che proprio vogliono vedere in opera aspettiamo e poi quando avrò più commenti con la stessa squadra farò le quattro squadre più richieste ovviamente le altre che non ci sono ragazzi cercate qualcuno che ha deciso di fare lui perso 21 con tutta la serie C io provo a fare già il minimo e il massimo che posso fare se non potete se non mi interessa amen quest'anno ho deciso di fare il campionese e continuerò a tenerlo perché mi sta piacendo un botto e niente ragazzi da GXP ci vediamo al prossimo video bella ciao ciao sconto di GXP 100 pins link in descrizione ciao